blanche caviglie, un push e uno squat, 50 jump in lung, 50 camminata plank, la camminata plank, chiara 100 jumping jack, questo è perfetto, i primi 5-6 ce l'hanno mangiato qua, 2, 3, 2, dai bra un attimo perché io sono sempre in ritardo, ho fatto la prima, 3, 2, 1, Ah bim, vai là. Ho il 25 per l'acqua? Grazie a tutti. 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 Sto pensando... Grazie a tutti. 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 e poi c'è l'esercizio del numero 30 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 e poi c'è il numero 30 e poi c'è l'esercizio del 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 numero 30 Ispirato. 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 Vieni qua, scema! Ti fai male, vieni qua! Ti fai male, vieni qua! Vieni qua, vieni qua! Vieni qua! Vieni qua, vieni qua! 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 al massimo possiamo camminare sulla salina partiamo a correre poi non ce la facciamo camminare come abbiamo fatto freddo ok qui si è scherzissimo va bene allora quello lo devo tenere di poco così così è toccato dai, già mi lausci dai ti amo ti amo ti amo dai 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 c'è un giallo senza pesa? no senza pesa no 10 kg sono una pastiglia uova dai che abbiamo girato qua dai 1 3 3 3 3 4 7 8 8 8 8 8 8 8 9 10 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 11 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 10, 12 bar di forza. Forza lì. Dai, questo è stato più grande. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Forza lì. Dai. Allora, stiamo a 30 minuti. No, no, intanto si sposta. Iniziate, iniziate, ora vengo. Vai, vai, gente, vai. Iniziate così io poi mi butto quando vuoi e vi faccio qui. Ecco. 11 o 15. 15. 15. Iniziate. 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 Non, sil thick. No, c'è il giro. Vabbè, c'è finito l'arrenista. Penso che sia finita? No, c'è 32 e 30. No, giro qui al petto. No, c'è finito l'arrenista. No, c'è finito l'arrenista. No, c'è finito l'arrenista. No, c'è finito l'arrenista. Poi mi gioco il petto. Poi mi sto chiesto. Ti ho chiesto. Ti lo fai inguagliare, così? Ti ho chiesto. Spazzalino. No, ecco, non ti partis. Ma lì è spazzalino. Guarda, ti affanturo. Dai, tu che ti dà un po' un po'. Poi ci mettiamo? io mi sono messo già va bene eh io sentito ma mica sta là dentro lo spazzetto c'è inizio e dai e dai ma come ti butti i piedi eeeh uno o due vicino alla porta vicino a qua io faccio poi aspettate prendi il tempo prendi preso si è addoggio puoi poggiare sulle gambe lo fa vedere il dito ma cazzo io per questo non facevo mai un dito in mezzo così sta tutto tosto in una posizione troppo rigida un po' di addome questo è fatto un po' per le gambe povertà fatti anche ripigliare mi sarei mancato non ce la faccio più mamma quanti i jumping l'hanno messo ma quanti l'hanno messo grazie quanto manchi il dito? l'hanno messo l'hanno messo abbiamo fatto 40 secondi non mollare non mollare è finita è finita è finita vai dai scusa dai cazzo dai 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 io acho che ha qui tu vai io dai il quadricipio ok si dico un po' prima ti dico 20 secondi prima no no plank su e giù e capriolo che ma fa? plank su e giù e capriolo perfetto 10 ta 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 facciamo 10 capriola facciamo dai 30 più 30 potete anche le camminate dai ho che plazzo è qui ciao 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 dai cane quanti sono tre si si stiamo a maggiorare oggi il sabicano bravo bravo dai lui non si sapeva la mano ok si sapeva quanti sono? so quinto non 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 no ma non ci ha più giù la caglia destra essi di questo di questo di questo di questo dai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti.